Vendimi te stesso. Ok. Vai. Ok. Io sono Rick, ovviamente. Ho preso tre autobus per arrivare qui. Ho finito le superiori. Mi serve un lavoro. Sono disposto a fare qualsiasi cosa, quindi assumimi. Qual è il tuo indirizzo, Richard? Non ne ho uno, quantomeno non stabile al momento. Sei il senza tetto? Per un periodo lo sono stato. Fai marchette. Se battò per strada, no? Non era una domanda. Io sono etero. Molti etero fanno marchette. Ce l'hai la patente di guida? Sì. Conosci Los Angeles? Sì, come no? Sono nato qui. Puoi iniziare stasera? A fare cosa? Io possiedo una fiorente attività di riprese giornalistiche. Facciamo servizi di cronaca. Forse hai visto un mio pezzo oggi, il furto d'auto col morto. No, cioè io non ho la televisione, però sembra forte. Ce l'hai un cellulare? Sì. E hai il GPS? Sì, ce l'ha. Congratulazioni, sei assunto. Ok. Il tuo lavoro sarà ascoltare le frequenze di emergenza, imparare tutti i codici, aiutarmi con le strade e badare alla macchina. Ok. E la paga quant'è? È un tirocinio, mi spiace. Beh, io... Scusa, ma non posso farlo. Ho bisogno di soldi. Ti do l'occasione di vedere come si lavora all'interno della mia organizzazione. E non è insolito per me assumere definitivamente i miei tirocinanti. Lo so, ma... Io devo essere pagato. Ho bisogno di guadagnare almeno qualcosa. Ti do 30 dollari in contanti a sera. Ok. Ok. Grazie. Grazie.